Mi sono laureata in infermieristica nel 2019 e questa occasione è molto speciale, è un giorno importante. Finalmente festeggiamo un traguardo raggiunto nel 2019, ma con questi anni di pandemia purtroppo è mancato questo aspetto e sono molto felice di essere qua a festeggiare il traguardo. Noi ci siamo laureati in relazioni pubbliche, il corso è il DIL all'Università di Udine, con sedia a Gorizia, un'emozione particolare, sempre bello, con tanti amici, persone nuove e questo è da dire grazie all'organizzazione e che dire, adesso ci godiamo lo spettacolo. Io mi sono laureato in Scienze e Tecnologie Multimediali presso l'Università di Udine e ho deciso di venire qui a questo Graduation Day per poter festeggiare e condividere la felicità della mia laurea che non ho avuto l'opportunità ad ottobre scorso, quando mi sono laureato, in questa location fantastica, in uno stadio bellissimo. Penso che chiudo il cerchio del mio percorso di studi. Soprattutto vorrei ringraziare l'Udinese per questa organizzazione impeccabile di questo Graduation Day. Io mi sono laureato al corso di laurea di Scienze e Tecnologie Multimediali dell'Università di Udine, con la sede a Pordenone, e devo dire che mi trovo molto emozionato ad essere qui, perché comunque dopo due anni di pandemia ci siamo laureati col Covid, quindi non abbiamo potuto festeggiare bene il nostro grande traguardo, che è un corso di laurea. Farlo qui in un grande stadio, com'è la Dacia Arena, insieme davanti a tutti i nostri parenti e amici, è una cosa molto bella e molto spedita comunque da fare.